In Italia ci sono molte culture. Un anno fa sono stato a Parigi. Andiamo in vacanza in Spagna. La città di Pechino è in Cina. Il concerto è stato a Napoli. Sto per andare in ufficio. Claudia abita in questa via. Abito a Napoli da quasi due anni. Lisbona si trova in Portogallo. Stasera vado a mangiare fuori. Di solito compro in quel negozio. Dopo do a Claudia il suo regalo. In Francia si mangia molto bene. Torno a casa dopo le vacanze. Vado a fare un po' di sport. Dopo sono a cena da un amico. Voglio andare in vacanza a Pisa. Sono stato in ufficio a lavorare. Oggi dobbiamo andare a piedi. L'autobus è arrivato in stazione. Oggi posso andare a nuotare. Voglio iniziare a mangiare sano. I genitori di Giuseppe sono qui. Mi piace la musica di quest'anno. Nel negozio di fiori c'è fila. I clienti sono in sala da pranzo. Oggi ho una visita dal medico. Quest'anno me ne vado a Natale. Oggi sto nel mio appartamento. Faccio colazione in cucina. Adesso ho voglia di un gelato. A Milano fa molto caldo. È da un anno che non piove. Ti inviò la foto di ieri sera. La festa di Claudia è noiosa. L'acqua in bottiglia costa tanto. Giovanni sa di essersi sbagliato. Andiamo a fare una passeggiata. Domenica sera esco a cena. La spesa è sul sedile dell'auto. Da giovane andavo in bicicletta. Ho aspettato per cinque anni. Maria leggeva un libro. Io andavo al cinema. Loro dormivano male. Noi finivamo la visita. Lui parlava di ecologia. Cosa faceva Maria? Dove andavi? Dove andavate? Finivate il lavoro per oggi. Io camminavo. Noi pensavamo. Noi pensavamo. Io mettevo. Loro finivano. Loro finivano. Voi credevate. Marco abitava a Napoli. Tu non parlavi con Luca. Tu avevi un'auto blu. Come dormivano? Quando finivamo? Di cosa parlava? Tu mettevi via i soldi. Coincidere. Coinciso. Condividere. Condiviso. Dividere. Diviso. Esplodere. Esploso. Evadere. Evaso. Implodere. Imploso. Perdere. Perdere. Perso. Dipendere. Dipeso. Offendere. Offeso. Pretendere. Preteso. Preteso. Accendere. Acceso. Scendere. 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 Spendere. Speso. Speso. chiedere. Chiesto. Chiudere. Chiuso. Chiuso. Conosciuto. Succedere. Succedere. Successo. Mettere. Messo. Sciogliere. Sciolto. Dire. Detto. Leggere. Letto. Vincere. Vinto. Sconfiggere. Sconfiggere. Accogliere. Accolto. Sono andato allo zoo. Abito al quarto piano. Parlo ai vicini di casa. Andiamo all'università. Abito all'ultimo piano. Parliamo agli insegnanti. È all'interno della casa. Telefono alle mie amiche. Telefonano alla vicina. Domani vado allo stadio. Abito al secondo piano. Abiti all'ultimo piano. Parlo ai tuoi amici. Telefonano agli italiani. Vanno allo zoo. Andate al bar. Sono agli ultimi posti. Il turista è all'incrocio. Parlo al direttore. Fa freddo ai due poli. Non ti ho visto alla festa. A lui non piace il sole. Non lo capisco. Massimo vuole andare a Parigi a maggio. Adesso Elena ha una macchina nuova. A pensarci meglio. Voglio una pizza. Secondo me ha torto, ma sembra convinto. Stiamo andando a mangiare fuori. Melania ha paura di prendere l'aereo. Luca ha due cani e un gatto molto vecchio. In estate andiamo a visitare Firenze. Lei ha molte cose da fare domattina. A sentire lui dovremmo cucinare a casa. Penso che a volte ci voglia una pausa. Ho visto tua cugina lavare la macchina. Non è in casa. Luca ha mandato un messaggio. Appena lo incontri, digli di telefonarmi a casa. Luca insiste finché non ottiene ciò che vuole. Quando furono tornati, andarono a dormire? Dopo che furono tornati, andarono a dormire. Quando hai telefonato, lei era già andata via. Prima che tu lo venga a sapere da lui, te lo dico. Non guarirai finché non faremo un viaggio. Quando decidete di uscire, fatemelo sapere. Non passerà l'esame finché non si impegnerà. Dopo che fu uscita di casa, vide un'auto rossa. Si addormentò prima che il film terminasse. Appena ebbe finito di cenare, beve un caffè. Quando arriverà l'estate, andrò in vacanza. Ho studiato finché mi sono addormentato. Dopo che ebbi fatto la spesa, iniziai a cucinare. Non si vede il mare da quassù. Nell'edicola si vendono i giornali. Domani ci si sveglia presto. Stasera si può andare al cinema. Loro si prendono la mia auto. Al ristorante si mangia bene. Si dice che quest'anno nevicherà. Spesso si viaggia di notte. Dalle piramidi si vede il deserto. Ieri sera si è parlato di tutti voi. Se si sta male è meglio dormire. Si prevede una gran pioggia. In estate si fanno le vacanze al mare. Non si finirà per vendere la casa. E' bello vederti dopo tanto tempo. Non dimenticarti di chiudere l'auto. Ti chiedo di pensarci su con calma. Ti piacerebbe andare in spiaggia. E' importante inviare questo pacco. Dubito di essere puntuale stasera. Luca vuole cambiare la macchina. Ho deciso di anticipare le mie ferie. Domani è urgente finire il lavoro. Claudia non ha voglia di cambiare. Non so ancora cucinare bene. Penso di dover spostare l'auto. Ho visto uscire Paolo da scuola. Luca dice di aver perso le chiavi. Io apro la finestra. Io ho aperto la finestra. Tu bevi l'espresso. Tu hai bevuto l'espresso. Marco chiede qualcosa. Marco ha chiesto qualcosa. Quando chiudono? Quando hanno chiuso? A chi dà la rivista? A chi ha dato la rivista? Voi non decidete, vero? Voi non avete deciso, vero? Anche loro lo dicono. Anche loro lo hanno detto. Loro sono in Italia. Loro sono stati in Italia. Che tempo fa? Che tempo ha fatto? Che cosa leggi? Che cosa hai letto? Dove metti quel libro? Dove hai messo quel libro? Chi perde spesso? Chi ha perso spesso? Che cosa prendete voi? cosa avete preso voi? Quale scegli, Maria? Quale hai scelto, Maria? A che ora scendono? A che ora sono scesi? A chi scrivete? A chi avete scritto? Io sto in casa. Io sono stato in casa. Vedo i miei amici. Ho visto 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 i miei amici. Grazie a tutti